Partita! Allora, ecco lì! Stagliate il traguardo! Iniziate! Iniziate il traguardo! Partite! Diciamo, il traguardo Christian alla fine, no? Si taglia! Ecco, ecco, vediamo... Bellissima anche questa immagine, vedete? Dovrebbe esserci anche Zanardi lì, mi sembra, eh! Tra loro! Tra poco, ecco, li vedremo passare anche tutti quanti. Immagini suggestive qui, eh! Un posto che in questo caso può essere definito veramente unico, eh! Vero Christian? Siamo su un tetto davanti alla storia dell'umanità, no? Pensa che in questi fori, in questi fori, no? Foro romano, foro imperiale, Si è sviluppata una più grande città del passato, di Roma. E qui è nata Roma, lì vediamo il Campidotto. Piazza Venezia. Piazza Venezia. Colosseo. Si combattiva una volta. Eccolo là, Colosseo, lo inquadriamo. Eccolo lì, uno spicchietto di Colosseo. Adesso ci sarà un'altra partenza. Adesso ci sarà un'altra partenza. Adesso ci sarà un'altra partenza. Grazie a tutti.